Duro attacco alla destra locale di Valentina Vaccari, consigliera provinciale del PD, sulla vicenda del collocamento della stazione Alta Velocità. Una destra più concentrata a perseguire interessi personali che a promuovere il bene collettivo, dice Vaccari. Durante l'incontro a Rigutino del luglio scorso, convocato dal Comitato Sava, la consigliera provinciale Cinzia Santoni, millantando relazioni con il ministro Salvini, ha alimentato illusioni che purtroppo si sono rivelate vuote, promesse o, peggio ancora, strategie meschine per alimentare la sua immagine personale. D'accordo con il segretario provinciale della Lega, Gianfranco Vecchi, attesto che la Santoni rappresenti ormai solo se stesse, evidenziando la deriva individualista di una figura che dovrebbe dedicarsi al servizio pubblico. Intanto, Fratelli d'Italia dà la colpa alla Lega e alla senatrice Nisini delle proprie mancanze, dimenticando che sono una parte integrante del governo. Macri, Lucacci, Nisini, Ghinelli e la sua giunta sono apparsi così ininfluenti che il Comitato Sava ha pensato di rivolgersi direttamente a Giorgia Meloni per perorare la causa Rigutino. I cittadini, chiude Vaccari, meritano di meglio.